Bentornato Gutier, bentornata Andiamo ora a vedere una prima introduzione a quel che è l'interfaccia a piastrelle del sistema operativo Windows 8 Cosa sono le piastrelle? Qual è l'interfaccia? E' appunto ciò che si presenta subito dopo aver installato Windows 8, una nuova interfaccia All'inizio questa interfaccia era denominata Metro, in seguito più semplicemente schermata Start Questa nuova interfaccia è dettata dalla politica della Microsoft di avvicinare il sistema operativo ad un'unica soluzione che vada bene per ogni dispositivo, sia fisso che mobile Molto adeguata questa interfaccia per i comandi tattili tipo touchscreen e quindi specificamente per i dispositivi mobili come smartphone e tablet ma leggermente ostica all'inizio però per i desktop Essa si presenta con dei rettangoli o dei quadrati colorati in vario modo che rappresentano diverse opzioni Alcune sono statiche e rappresentano un semplice collegamento per l'avvio di un'applicazione di un programma, mentre altre sono dinamiche in quanto hanno una visualizzazione variabile con il tempo Grazie a tale rappresentazione variabile appunto puoi ottenere disparati tipi di informazioni in base all'uso che ne farai del tuo sistema operativo Potrai avere notizie medio, di borsa, di finanza, sport, email, chat oppure foto, musica tutto in tempo reale Il tuo piacere e la tua necessità dell'uso deciderà cosa proiettare su queste piastrelle, su questi riquadri Come funzionano? La schermata a piastrelle, quindi la schermata start, va a sostituire quello che nei precedenti sistemi operativi della Microsoft era il pulsante con il corrispondente menu start In alto a destra di questa schermata noterai il nome utente con il quale avrai avuto accesso e l'icona che sarà personalizzabile Qui una rappresentazione dei vari pulsanti con i vari nomi Infatti ogni pulsante, ogni piastella, ogni riquadro è etichettato con un nome Ne troverai uno con la scritta desktop Cliccandoci sopra avrai l'opportunità di visualizzare il desktop quasi vecchio stile con la barra delle applicazioni e la sysray con icone, orologio ed altro Avvicinando il mouse all'angolo in basso a sinistra potrai tornare all'interfaccia a piastrelle semplicemente cliccandoci sopra quando comparirà appunto questa nuova icona Passare dall'una all'altra visualizzazione rapidamente è anche possibile tramite il tasto Windows quindi quello con il logo della Microsoft presente sulla tastiera Potrai alternare quindi le due visualizzazioni in maniera molto rapida Il numero di icone e piastrelle che visualizzi in realtà è potenzialmente più ampio di quello che vedi nella schermata Start, nell'interfaccia iniziale Cliccando infatti con il tasto destro del mouse in una zona non popolata da icone ti comparirà una barra al cui interno troverai un pulsante con la scritta Tutte le app, tutte le applicazioni Cliccandoci sopra avrai visualizzato un incremento in numero di icone e quindi compariranno tutte le applicazioni e i programmi installati nel sistema operativo Cliccandoci su ognuna di essa con il tasto sinistro del mouse si aprirà naturalmente il programma relativo Se invece ci clicchi sopra con il pulsante destro prima di tutto si selezionerà questa icona, questa applicazione e ciò lo noterai grazie a un segno di spunta nel vertice in alto a destro e nascerà anche un menu sottostante nella barra con una serie di pulsanti Ciò ti permetterà, in base all'icola selezionata, quindi varierà di volta in volta di aggiungere un collegamento di quel programma all'interfaccia piastrelle start o aggiungere il suo collegamento nella barra delle applicazioni nella visualizzazione desktop o visualizzare la sezione per disinstallare quel determinato programma quella determinata applicazione oppure semplicemente aprire il programma, avviarlo o eseguire quella specifica applicazione con le credenziali di amministratore oppure ancora individuare la posizione del file aprendo il percorso all'interno di Esplora Risorse individuando l'eseguibile in pratica Quando visioni l'interfaccia a piastrelle la selezione col tasto destro prevede anche una possibilità di eseguire una selezione multipla delle varie piastrelle icone presenti nell'interfaccia Inoltre potrai vedere che alcune piastrelle hanno delle dimensioni doppie rispetto ad altre Cosa fare? Dal menu che si genera potrai ridurre quelle grandi in piccole e incrementare le dimensioni di quelle piccole in formato grande o ancora disattivare il riguadro animato trasformandole in piastrelle statiche Ciò comunque non è valido per tutte le icone per tutti i riguadri Sia nella schermata desktop che nell'interfaccia avvicinando il mouse al lato destro dello schermo nei pressi degli angoli superiori o inferiore ti comparirà una barra chiamata Chance Bar La stessa appare o scompare anche premendo simultaneamente i tasti Win più C presenti sulla tastiera Avrai in visione, oltre alla barra, la data, l'orario e lo stato della connessione nella zona sinistra Nella barra di destra troverai le seguenti icone Ricerca, Condivisione, il pulsante Start, i dispositivi e le impostazioni Cosa eseguono questi pulsanti? Cliccando su Ricerca potrai eseguire una ricerca o delle applicazioni o dei file all'interno di un computer Mentre il pulsante Condivisione ti consente di condividere alcuni contenuti Il pulsante Start ti consente di tornare alla schermata iniziale quindi quella all'interfaccia a piastrelle se stai visionando altre zone, altre sezioni del sistema operativo L'icona Dispositivi ti permette di amministrare e gestire alcune opzioni per i vari dispositivi collegati al computer Infine la sezione Impostazioni ti consente di gestire le impostazioni del sistema operativo e infatti con quest'ultima, oltre a personalizzare il tuo Windows 8 potrai arrestare o riavviare il tuo computer Cliccandoci sopra infatti si aprirà una sezione in cui troverai altri pulsanti e icone tra cui lo stato della tua connessione la regolazione del volume e la luminosità dello schermo questo naturalmente si è prevista come opzione potrai decidere di nascondere le notifiche oppure arrestare il sistema o gestire la tastiera ed infine modificare le impostazioni del PC Infatti qui è rappresentato uno screenshot che ti permette di visionare nel riguardo impostazioni quali altri pulsanti ti compariranno Termino proprio questa introduzione alla nuova interfaccia con le opzioni di arresto per poter spegnere il computer Infatti a questo punto potrai semplicemente cliccare sul pulsante Arresta e scegliere il pulsante o Arresta il sistema se lo vuoi spegnere o riavviare il sistema se lo vorrai riavviare e attendere il risultato Eccoci guter nella schermata Start come puoi vedere in alto a destra c'è rappresentato il nome che avrai dato al computer con l'icona che ti rappresenterà al centro troverai tutti i riquadri, le piastrelle che mostreranno una parte dei programmi, delle applicazioni che saranno installate sul computer con i quali potrai interagire Diciamo subito che tramite il pulsante Riquadro Desktop potrai accedere alla visualizzazione chiamiamola standard che conosci del desktop nella quale troverai le varie icone che con il tempo poi aggiungerai l'assistray che già ben conosci Per tornare alla schermata Start potrai semplicemente cliccare sul pulsante con il logo della Microsoft presente sulla tastiera parcheggiamo per il momento questa tastiera virtuale e andiamo a vedere cosa ci offre l'insieme di queste piastrelle cliccando su uno dei pulsanti puoi vedere che il pulsante Relativo viene selezionato e nasce un nuovo menu nella barra in basso tramite il pulsante Tutte le applicazioni potrai vedere tutte le applicazioni che saranno installate sul computer e con le quali potrai anche interagire supponiamo di voler raggiungere ad esempio una di queste applicazioni, di queste icone alla schermata Start sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro oltre a selezionare l'icona stessa comparirà come detto un menu che ti permetterà di interagire con queste icone sarà sufficiente cliccare su questo nuovo pulsante oppure se lo volessimo aggiungere alla schermata Start sarà sufficiente cliccare così su questa icona aggiungiamo l'appunto e andiamo a vedere se è presente sulla schermata Start avviciniamoci in alto a destra finché compare la Churn Bar clicchiamo su Start e andiamo a trovare l'icona che rappresenta la tastiera virtuale spostiamoci e vediamo che è comparsa in questa sezione cliccandoci sopra comparirà il programma che gestisce la tastiera a schermo altre opzioni individuare una delle icone dinamiche cliccandoci con il destro possiamo disattivare il riquadro animato e quindi presenterà una icona fissa e non più dinamica quindi diventerà statica cliccandoci sopra possiamo riattivare il riquadro animato quindi possiamo gestirla al nostro piacere altra possibilità se prendiamo un'icona piccola possiamo renderla più grande oppure una grande possiamo trasformarla di nuovo in icona piccola a secondo del nostro piacere cliccando con il pulsante destro in una zona non popolata da icone comparirà come detto questa barra che ci permetterà di visualizzare tutte le applicazioni possiamo in qualsiasi momento tornare visualizzando la Churn Bar o con la pressione dell'insieme tasto Windows più C oppure come visto tramite la tastiera virtuale tramite il pulsante qui in basso a destra puoi ridurre la visualizzazione di tutte le icone presenti nella schermata Start e quindi alternare la visualizzazione da icone grandi ad icone piccole come visto a seconda dell'icona che andrai a cliccare con il pulsante destro potrà nascere uno o più pulsanti che ti permetteranno di interagire con la stessa attuando diverse opzioni come in questo caso la rimozione dal Start oppure accedere alla sezione per disinstallare l'applicazione ricorda una cosa che rimuovere dal Start non equivale a disinstallare il programma o l'applicazione stessa clicchiamo su un altro e vediamo che è possibile variare il numero di opzioni presenti in questa schermata come aprire ad esempio il percorso del file quindi andare ad individuare dove è posizionato l'eseguibile seguendo il percorso qui evidenziato torniamo alla schermata Start oppure eseguire il programma come amministratore o avviare il programma in una nuova finestra chiudiamo e torniamo nella schermata Start o infine accedere alla sezione per disinstallare il programma cosa che hai già visto nelle precedenti lezioni ancora rimuovere questo programma come visto dalla balla delle applicazioni qualora fosse presente oppure rimuovere dalla schermata Start cliccando con il destro deselezionerai l'icona e altra cosa che voglio farti notare è la selezione multipla che ti permetterà di interagire con più icone contemporaneamente apportando ovviamente le opzioni comuni che prevedono lo stesso menu annulliamo la selezione e torniamo a una visualizzazione standard parliamo adesso della Chance Bar la Chance Bar è la barra che ti permette di accedere ad altre sezioni del sistema operativo toccando il tasto sulla tastiera con il logo Windows e contemporaneamente il tasto C ti comparirà questa barra che nella sezione di sinistra ti fornisce informazioni dello stato della rete l'orario e la data qui avrai vari pulsanti che ti permetteranno di eseguire una ricerca di eventuali applicazioni impostazioni o file presenti all'interno del tuo computer potremmo ad esempio cercare il programma Opera e quindi una volta selezionato potrai cliccare con il destro e interagire con il menu che si viene a generare oppure cliccando con il pulsante sinistro avviare immediatamente il programma torniamo alla Chance Bar tramite il pulsante condivisioni qualora ci fosse qualche opzione disponibile potrai condividere questa opzione grazie all'applicazione che utilizzerà quella determinata opzione il pulsante start ti permette di tornare alla visualizzazione della schermata start il pulsante dispositivi ti permette di attivare operazioni come in questo mio caso specifico attivare la visualizzazione tramite un secondo monitor che ho collegato al computer duplicando ciò che vedi su un monitor e sull'altro oppure estendendo l'applicazione oppure selezionare solo il secondo schermo torniamo alla sezione precedente fino ad individuare il pulsante impostazioni accedi ad altre sezioni come lo stato della rete la regolazione del volume in questo caso non è disponibile la regolazione della luminosità oppure potrai decidere di avvortire eventuali notifiche nascondendole per un determinato tempo oppure interagire con le opzioni della tastiera o modificare le impostazioni del pc tutte opzioni che comunque descriveremo in seguito con il proseguo della spiegazione del sistema operativo della macrosot termino la lezione spiegandoli rapidamente come funziona il tasto arresta che ti permetterà di sospendere le operazioni del computer arrestare il sistema operativo o semplicemente riavviare il computer bene nella prossima lezione ti parlerò della sezione degli aggiornamenti per passare a Windows 8.1 ora un forte saluto ciao a presto da calo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto